Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Giovanni, capitolo 4, dal verso 7. Vi chiedo di stare in piedi, leggeremo la storia della donna samaritana che incontra Gesù lì al pozzo di Giacobbe. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me? Che sono una donna samaritana. Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere tu stessa, gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, signore tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bebbe egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, signore dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse, signore vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene anzi già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio e spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse, sono io, io che ti parlo. In quel mentre giunsero i discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo, la gente uscì dalla città e andò da lui. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Questo è l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Una donna che per caso, casualmente diremmo, incontrò Gesù proprio davanti al pozzo. In questo dialogo che ci fu tra questa donna e Gesù, possiamo notare la grande comunicatività di Gesù, il modo con cui Gesù riusciva non a intrattenere un discorso futile, ma con poche frasi, con poche parole, arrivare subito al nocciolo della questione, al punto, al motivo principale di quel dialogo. Gesù voleva trasmettergli che egli era il Salvatore, che era venuto per redimere anche l'anima sua, la sua vita. Voglio questa mattina soffermarmi sulla posizione di questa donna. lei riceverà il messaggio. Gesù parlerà di questa acqua viva, di questa acqua che soddisfa l'anima. E noi sappiamo che cos'è l'acqua viva, vero? Vero? Lo Spirito Santo, quando è venuto a dimurare nei nostri cuori, ha soddisfatto pienamente l'anima nostra. Ecco perché diciamo che anche, abbiamo cantato, il mio cuore calmo sta, anche nei confronti della morte, del dolore, della prova, in qualsiasi insomma situazione, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, il mio cuore calmo e sereno, in virtù di quest'acqua viva che ci è stata donata da Cristo Gesù. l'anima nostra si acqueta in Dio, spera, confida nel Signore. Ma questa donna non riceverà in realtà il messaggio in modo, diciamo, repentino, veloce. C'è una frase che Gesù dirà che accenderà in lei stupore, meraviglia. Finché si parlerà di quest'acqua, finché Gesù gli stava parlando di quello che egli poteva dare a lei e di quello che avrebbe voluto dargli, si continua così a parlare, ma non c'è nessuna manifestazione così né di fede né di certezza nel cuore di questa donna. Ma quando Gesù arriverà a toccare la vita personale, quando Gesù gli dirà le cose, quelle che lei sapeva che erano nascoste, che facevano parte della sua vita, che facevano parte delle sue esperienze. E Gesù va a prendere proprio questo discorso. Vai a chiamare il tuo marito. Non lo dice a caso. Gesù non sbaglia in questa affermazione, perché già sa che lei non ha marito. Ma in lei si accende alle parole di Cristo, quando Cristo gli rivela la sua condizione morale e anche spirituale. Si accende qualcosa nel suo cuore. e esce dalla sua bocca questa espressione ma vedo che tu sei un profeta. E Gesù si presenterà addirittura proprio in modo poi palese alla fine del dialogo quando lei chiederà del Cristo che doveva arrivare e che quindi in un certo senso anche i samaritani sapevano e desideravano insomma vedere il Cristo che sarebbe venuto Gesù si presenterà come colui che è il Cristo il Messia l'unto dell'Eterno il Figlio di Dio sono io dirà Gesù e poi abbiamo letto che quando lei lascerà la secchia e andrà nella sua città inizierà a parlare di questa esperienza e sapete l'aggancio diciamo il discorso che lei farà ai suoi concittadini è proprio questo la donna lasciò la sua secchia se ne andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto non potrebbe essere lui il Cristo in un certo senso è come se di tutto il discorso che Gesù fece non fu un discorso lunghissimo quindi insomma un discorso facile da dimenticare quello che toccò il cuore di questa donna fu la frase circoscritta alla sua vita alla sua persona alle sue cose voglio parlarvi proprio di questo modo a volte e di questo rischio che potrebbe esserci come credenti di non oltrepassare il recinto delle nostre cose della nostra vita personale il nostro rapporto sì è un rapporto personale esclusivo col Signore ma sappiamo che facciamo parte di un regno facciamo parte di un popolo meraviglioso facciamo parte del corpo di Cristo dove Cristo stesso è il capo di tutto il corpo nessuno vive per sé stesso scritto nella parola del Signore e fino a quando Gesù non toccò le corde queste proprio personali intime questa rivelazione questa donna non riusciva a comprendere chi veramente aveva davanti a sé poche settimane fa parlai di Natanaele vi ricordate Natanaele Giovanni capitolo 1 verso 50 e Natanaele fu colpito da una frase che Gesù disse perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico tu credi tu vedrai maggiore cose maggiori di queste vedete ciò che nella maggioranza dei casi colpisce la parola del Signore a volte colpisce esclusivamente solo quello che tocca certe corde personali della nostra vita della nostra esistenza ma Gesù dirai a Natanaele se questa rivelazione che riguarda te stesso ha potuto spingerti a credere così come per quella donna la chiave per poter aprire il suo cuore fu parlare delle cose intime private sue e Gesù lo fa lo sa fare perché conosce profondamente il nostro cuore ma tutto il resto del discorso io voglio considerare insieme a voi fratelli e sorelle la grande opportunità che abbiamo quando ci accostiamo alla parola di Dio il Signore ci rivela la sua grandezza il suo amore e a volte rischiamo di percepire solo pochissime cose rischiamo di afferrare o di voler afferrare solo le cose che più ci interessano che più ci emozionano che più toccano quelle corde che fanno smuovere qualcosa nel nostro cuore ma la parola di Dio è tutta parola benedetta santa propizia per i nostri cuori ci sono cose che dal punto di vista umano della carne sono dure da digerire dure da accettare ma il Signore parla sempre per il nostro bene e vogliamo desiderare questa mattina di voler uscire dal nostro recinto dalle nostre cose private c'è un gran bisogno intorno a noi fratelli e sorelle ci sono anime che hanno bisogno di parole di salvezza Gesù Gesù ha lasciato la sua gloria per poter incontrare questa donna e le parole di Cristo erano e sono state sempre tutte efficaci abbiamo letto ieri in ebrei capitolo 2 verso 1 durante la scuola domenicale questo verso perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontane da esse perciò abbiamo bisogno che ci applichiamo ancora di più utilizzare la parola di Dio come fosse una sorta di messaggio premonitore magari qualcosa da utilizzare per motivi personali per scopi personali per una realtà strettamente personale potrebbe essere un errore potrebbe essere un motivo in cui motivo in cui noi limitiamo la benedizione del Signore perché il Signore ogni giorno vuole parlare al nostro cuore lo crediamo fratelli e sorelle e la sua parola porta dei benefici incredibili nella nostra vita è la sua parola che suscita la nostra fede è la sua parola che scuote il nostro cuore è il messaggio di Cristo anche quello duro quando Egli ci riprende anche quando Egli ci esorta anche quando Egli ci tocca e ci sveglia da quel sonno da quel torpore in cui noi eravamo caduti purtroppo la carne mette sempre davanti gli interessi personali mette sempre davanti il nostro ego e guai se non facciamo davvero attenzione a questo modo di avvicinarci al Signore Efesini capitolo 3 verso 20 ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo io non voglio ascoltare conservare meditare solo alcune parole che hanno toccato il mio cuore io voglio meditare giorno e notte nella sua parola Salmo capitolo 1 Salmo 1 verso 2 beato colui che prende di letto nella parola del Signore che la medita giorno e notte beato colui che è attento al richiamo del Signore beato colui che diventa sensibile in tutta la parola del Signore e ne sente il bisogno di applicarsi di meditarla di assimilarla affinché Dio possa operare potentemente come Egli vuole nella nostra vita l'intento del credente è quello di glorificare di innalzare il Signore questa donna è entusiasta lascia la secchia era andata lì per quello ma l'ultimo suo pensiero adesso è attingere l'acqua corre perché è stata toccata nel personale nell'intimo e quello che sa raccontare è colui che mi ha detto tutto della mia vita Natanaele viene toccato perché sente da Gesù quello che doveva essere nascosto a tutti ma tu vedrai cose maggiori Natanaele non fermarti alle tue circostanze personali non usare la tua la mia parola come ad un uso e consumo proprio personale individualistico ma facciamo sì che la parola di Dio possa essere un fiume d'acqua viva che sgorga nei nostri cuori non solo quest'acqua viva soddisferà l'anima tua non solo non avrai bisogno più di nient'altro ma fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno tu sarai un canale di benedizione tu sarai una fonte che la parola di Dio possa davvero lavorare i nostri cuori per poter essere un mezzo di consolazione di benedizione per quanti sono vicini a noi per quanti ci conoscono per quanti hanno una relazione con noi a me fratelli e sorelle la parola di Dio possa lavorarci non solo nel raccontare quello che Dio ha fatto vent'anni fa trent'anni fa ma possiamo raccontare della benevole mano del Signore che è stata costante tutti i giorni sulla nostra vita che possiamo raccontare di come il Signore ha lavorato ed è stato presente in ogni cambiamento necessario del nostro cuore a volte siamo chiamati dalla parola del Signore a bere il nostro calice amaro Gesù pregò il Padre se è possibile allontana questo calice da me però non di poco conto anzi che sia davvero il fulcro anche della nostra preghiera della nostra attitudine con Dio non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta la parola di Dio ci incoraggia ci esorta a credere sì il Signore può fare qualsiasi miracolo nella nostra vita noi lo crediamo perché tutto è possibile a chi crede e sappiamo che Dio è onnipotente può arrivare lì come abbiamo letto dove la nostra mente non riesce neanche arrivare a pensare a immaginare Dio va infinitamente al di là i suoi pensieri non sono i nostri e le sue vie non sono le nostre vie ma la parola di Dio ci dice e usa delle espressioni che forse potrebbero in qualche modo farci riflettere anche questa mattina ad esempio leggo qualche verso secondo Timotio 2 o 3 2 e 3 sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù sopporta sopporta anche tu le sofferenze ed è un tema importante nella parola del Signore che possiamo avere questo coraggio questa forza questo entusiasmo di accettare la parola del Signore in un modo completo Giacomo 1 12 beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano e poi andando diciamo ancora a incrementare di intensità leggo anche primo Pietro 2 19 perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente il Signore risponde il Signore benedice il Signore ci sbalordisce ma il Signore è anche colui che ci riprende che ci esorta che ci dice sopporta perché questa è la mia volontà sopporta la prova sopporta anche quello che stai subendo ingiustamente perché lì è rivelata la benedizione del Signore la parola di Dio è gloriosa apre il nostro cuore e l'abbiamo visto come il Signore con delle semplici parole arriva dritto al punto con Natanaele con la donna samaritana ma con tutti coloro che si sono accostati a Lui con un cuore sincero ma il Signore dirà non fermarti qui non circoscrivere l'esperienza col Signore è così semplicemente come se la rivelazione fosse qualcosa da mettere in tasca da conservare nel portafoglio vedrai cose maggiori di queste sarai chiamato a fare cose più grandi di queste sarai chiamato non solo a godere dei benefici della grazia ma anche a sopportare a combattere il buon combattimento sarai chiamato a soffrire per il nome di Cristo come dirà l'Apostolo Paolo e in tutto questo vogliamo riconoscere che il Signore è colui che ci dà la forza che il Signore si rivela con la sua potenza con la sua grazia perché nel fare tutte queste cose noi non siamo lasciati soli ma la grazia di Dio ci accompagna la presenza dello Spirito Santo ci rende forti e quanto di noi quanto in noi cresce la rivelazione di Dio la conoscenza del Signore ma se ce ne stiamo quieti lontani dalla parola di Dio se pensiamo al nostro cammino cristiano come se non ci fosse nulla più e come se non ci fosse nulla intorno a noi perderemmo quest'altra affermazione vedrai cose maggiori Natanaele non fermiamoci fratelli e sorelle a circoscrivere l'esperienza della salvezza della grazia di Dio della santificazione a circoscriverla sulla nostra persona Gesù disse ai suoi la messe è grande pregate il Signore della messe che manda degli operai la messe è grande come per dire c'è tanto lavoro ma gli operai sono pochi pregate il Signore della messe e voglio aggiungere a quello che stavamo dicendo prima per poterlo fare per poter pregare per poter andare nella messe è necessario uscire dal proprio recinto personale e vedere vedere il bisogno avere una visione reale quella che non può mai venire dal cuore dall'intelligenza dell'uomo ma quella che è rivelata dalla potente parola di Cristo c'è un bisogno fratelli e sorelle c'è un bisogno grande e la Chiesa è chiamata a pregare che il credente esca dalle sue piccole situazioni personali che smetta di pregare solo per se stesso che smetta di trascurare il luogo della preghiera chi è che deve pregare chi è chiamato a pregare affinché operai vadano nella messa affinché il Signore spinga dei credenti ad uscire dal proprio recinto voglio concludere questo messaggio ci sarebbero tantissimi esempi di un caro giovane William Tindall era un gallese che intorno al 1500 ebbe in cuore di tradurre la parola di Dio in inglese era stato fatto in precedenza da Wycliffe ma la sua traduzione si basò sulla versione latina Wycliffe scusate Tindall cercò in qualche modo di lasciare agli inglesi e lui sosteneva questo mi piacerebbe che ogni contadino mentre Ara la terra cantasse qualche salmo ricordasse qualche verso della parola di Dio non era un uso comune ed era vietata addirittura la lettura della parola di Dio in quei tempi e il suo desiderio era quello che tutti potessero leggere la parola di Cristo la voleva tradurre direttamente dall'ebraico e dal greco vecchio testamento e nuovo testamento si impegnò così tanto iniziò a studiare iniziò a tradurre iniziò a rivedere le sue stesse traduzioni più volte ma a causa di un tradimento che arrivò proprio da un suo amico fedele fu arrestato e mentre era in carcere per 17 mesi furono gli ultimi mesi della sua vita lui non desiderò altro che continuare quel lavoro quel lavoro che aveva iniziato chiese la Bibbia in ebraico che lui utilizzava e qualche dizionario per continuare a portare a compimento quel lavoro così prezioso e importante dopo 17 mesi fu condannato per il semplice fatto che ebbe in cuore di tradurre la parola di Dio di poterla offrire ai suoi conazionali una parola che potesse essere letta fu strangolato e bruciato sul rugo non è questa una vita abbandonata dal Signore questa è una vita pia benedetta dal Signore come come lo è stata la vita di Paolo di Timotio di Pietro di Giovanni che sono usciti dal loro recinto e hanno vissuto l'esperienza della sopportazione della prova della persecuzione e se questo manca alla nostra vita questa mattina chiediamo al Signore Signore fa che non mi fermi ad ascoltare solo una piccola parte del tuo messaggio ma che possa avere la tua visione e che possa nutrire nutrirmi di ogni singola parola che esce dalla tua bocca vogliamo alzarci in piedi Bratile e Sopera gloria al tuo nome Signore Signore